Beppe Magi, tecnico della risposta di sostituzione di Simone Pazzeia, squalificato Mister, 30 minuti, 29 diciamo, prima del gol, sicuramente una bella visse poi. E poi abbiamo preso questo gol sull'azione personale di Apolano, su questa palla, tra l'altro Boinega, il difessore che lo stava chiudendo, ha deviato la palla e quindi si è impennata sul secondo palo, e a parte lo conosciamo tutti per queste palle, l'ha fatto apposta, e ha fatto gol, lì ci ha un pochino scombussolato i piani, perché poi loro si sono abbassati molto, ci hanno tolto la profondità, e i nostri attaccati fondamentalmente si sono schiacciati con la loro difesa, e abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi giusti. Una visse che praticamente una volta sotto, praticamente non ha trovato più il bandolo della notassa, se vogliamo. Ma diciamo che è stata brava la samba a chiudersi bene, e sulle palle alte sono molto forti. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, dispiace per il risultato, però ai ragazzi non possiamo ritrovare nulla, perché comunque l'impegno si è stato, ci abbiamo provato un po' in tutti i modi, a volte meglio, a volte meno bene, però credo che gli episodi abbiano deciso quella parte meglio. che è un gioco vero e proprio in campo, abbiamo avuto più possesso palla a noi, e loro ripartivano in contropietta. Era un po' l'idea nostra all'inizio di partire forte, bloccare, e sfruttare poi la profondità e le caratteristiche di noi attaccanti.